5, 4, 3, 2, 1 Quest'anno anche dal mare alla città, al centro storico abbiamo acceso le lampadine non ci siamo fermati solo alle frazioni, al centro città ma quest'anno la novità a Grigento, destinazione a Grigento anche sul mare quindi i nostri concittadini e coloro che si avvicinano alla nostra città avranno il modo di vedere le luci di Natale, anche spiaggia grazie alla collaborazione con il distretto e abbiamo appuritato anche per pulire la spiaggia quindi viviamo anche il Natale nel nostro litorale grazie a Mario Amico, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo magnifico risultato che oggi si accende nella nostra città grazie a tutti